Vale Animal Pad La presentazione è dedicata al suo rischio estinzione Sicuramente ne farò altre dove parlo del suo punto di vista zoologico E dove parlo delle sue caratteristiche fisiche Ma voglio sottolineare che questa è dedicata al suo pericolo Il leone Il leggendario È in pericolo Perché Il problema numero uno È la distruzione dell'habitat La savana infatti Così come le foreste Sta diventando un enorme campo coltivato E non lascia spazio ai leoni E gli altri predatori al vertice della catena alimentare Il secondo problema è il bracconaggio Che non affligge solo leoni Ma un sacco di altri animali I bracconieri sono spesso capi famiglia che ucciscono i leoni E non solo Per venderli nel mercato nero I costi di certe parti del leone sono elevatissimi Ed è proprio questo che sprone i bracconieri La gente compra tramite il mercato nero Per farsi credenze curative O per oggetti di bellezza Senza il leone tutto andrà a rotoli Anche il più piccolo animale Serve nell'ecosistema Figuriamoci il leone e i predatori Ma cosa possiamo fare? E cosa stiamo facendo? La prima cosa buona è il centro di recupero In Africa, per fortuna, ci sono numerose associazioni Che accolgono il leone, orfari o feriti Per riportarli in natura Quello che invece possiamo fare È protestare e combattere contro la distruzione dell'abito Ad donare alle associazioni O dedicare la propria vita adesso Come desidero fare io Grazie per la visione E non dimenticare di commentare con Hashtag no estensione Grazie